SONO INNAMORATA Oggi lui mi ha detto che questo mese mi paga la metà Dopo parla con lei e tutto su mia madre Finalmente insieme in una nuova commedia ricca di equipici Devi farlo tu Cosa? Provarci? Se la verità fosse che gli uomini non sono per me Che anche a me ti acciono le donne Voglio che sia una scopata in diventicabile Ti voglio maschio, dirile selvaggio, ok? A mia madre piacciono le donne Che razza di famiglia sono capitata?